Octomore 9.1, il re della torba, il whisky più torbato al mondo. Sin da subito si percepisce il fumo, la torba, tanta cenere. Accompagnato da questi 5 anni di invecchiamento che gli donano delle note vanigliate, anche di cocco, e agrumate. Mirto e stabilità, iodio. Persistente fino alla fine, grazie anche alla sua gradazione alcolica. Abbiamo 59,3 gradi. La cosa anche positiva di questo whisky, che è una sfida per la distilleria, è che non essendo filtrato a freddo, abbiamo gli oli essenziali all'interno e quindi rendono il nostro whisky cremoso e viscoso. Quindi rimane al palato e tutti i sentori li percepiamo e continuano a restare sulla nostra bocca per svariati minuti. La particolarità sicuramente, essendo appunto una sfida, è la nostra release che ogni anno cambiano. Datate con un numero specifico, quindi fate presto a prenderle. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!